Un progetto che abbiamo come ragione Marche, avevamo previsto questa rete di piste ciclabili a livello regionale sia lungo la costa adriatica, la cosiddetta ciclovia adriatica, ma soprattutto anche tutta una serie di ciclovie trasversali quindi che vanno dalla costa verso l'entroterra. All'interno di questi progetti che avevamo finanziato c'è un finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro che prevede la pista ciclabile, cioè il prolungamento dell'attuale ciclabile che parte da Ponte Vecchio di Pesero per arrivare fino a Casina di Auditore in questa prima fase. quindi che va ad attraversare i comuni di Tavuglia, di Monte Labate, di Valle Foglia, di Monte Calvo in Foglia ovviamente partendo dal comune di Pesero. Proprio in questi giorni è stata fatta la gara per individuare i progettisti che devono fare il progetto esecutivo la regione Marche gli ha dato tre mesi di tempo, quindi indicativamente per il mese di maggio-giugno dovremmo avere il progetto esecutivo questo vuol dire che entro l'anno, al massimo entri primi del 2022, si partirà con la gara e quindi con i lavori. Un risultato che sembrava impossibile, invece mano a mano si sta procedendo, anche perché abbiamo come obiettivo il dover spendere appunto queste risorse. Voglio dare anche un'informazione perché ci sono molti cittadini che ad esempio mi hanno scritto dove vedono che la pista ciclabile è interrotta in diversi punti lungo il fiume. Questa interruzione è legata al fatto che nel corso degli anni abbiamo portato avanti tutta una serie di progetti di messa in sicurezza idraulica, quindi rafforzamento soprattutto degli argini e appunto in alcuni tratti la ciclabile è chiusa perché la regione Marche sta facendo questi lavori molto importanti parliamo complessivamente di oltre 3 milioni di euro, lavori che prevedono il rafforzamento degli argini quindi la messa in sicurezza di tutto quello che ci sta attorno. È un lavoro di attesi da anni e io penso che un po' con i lavori sugli argini, un po' con il percorso ciclopedonale avremo veramente una bella riqualificazione del fiume. Ricordo che per quanto riguarda la ciclabile lungo lavorata del Foglia non sarà tutta lungo il fiume ma alcuni tratti passeranno in prossimità delle zone artigianali, in prossimità delle abitazioni quindi ci sarà un'alternanza di tipo di paesaggio con l'obiettivo appunto di essere utilizzata sia dal punto di vista della mobilità sostenibile nella quotidianità ma anche come un percorso ciclopedonale soprattutto anche per il tempo libero con l'ambizione di essere utilizzata anche dal punto di vista della promozione territoriale quindi dal punto di vista turistico.